I will make you a sunset con questa torre vecchia tutta polverosa brava così perché la persona è anche una brava donna di casa eh ci sono anche qualche ragnadiera sulla una bella pulizia della torre però non pulire troppo bene eh Giulia aspettiamo come fanno anche lì è pulito c'è una finestra di sotto da pulire sta bello sta bello si vede un patate si vede un patate si vede un patate mezzola vedi c'è un patate si vede un patate si vede un patate oh è arrivata la finestra finalmente una bella spolverata che ci vuole proprio che cosa si vede un patate ma che cosa si vede un patate si vede un patate si vede un patate si vede un patate e quanto polveri c'era su sta torre si vede un patate si vede un patate si vede un patate ma quanta ma quanta ma quanta dai dai bambini chiamateli bravi bambini così si vede un patate si vede un patate si vede un patate adesso arriva l'orologio così per che ore sono che è tardi che deve scendere un'altra pulitina all'orologio un'altra pulitina all'orologio un'altra pulitina non hai visto che ho lo so come fanno, sei in ritardo ci sono tutti i tuoi fidanzati spazzacamini che ti aspettano ma io mi sei quasi aderata ma uno spazzacchino con la finestra non gliela diamo? ma che si fa? ma si mette il rossetto è una signora anche lei, è una vecchietta ma è una signora bambini ecco una che arriva, chiamatela un po' bifana, 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 bifana ci sono gli spazzacamini che l'aspettano e gli accompagnano a prendere le calze ma si fa pure il selfie ma no, ma non ci credo, si sta facendo un selfie ma non ti favo davvero si fa il selfie grande bifana brava, brava bifana è una bifana social le scelte sempre più giù siete pronti bambini? si si o no? fatemi sentire si vai ecco che arriva ecco la musica di drink la fatta scena da me dai un applauso a bifana e adesso quello che fanno è gli spazzacamini e gli andate a prendere le calze alla casa che bevono a casa la fatta scena da me Grazie a tutti.